Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 sul tratto appenninico ci sono code tra il bivio con la A11 e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna per traffico intenso. Sulla FIPILI code attratti tra la Strassigne e l'allacciamento 1 Firenze-Scandicci in direzione Firenze, fare poi attenzione per personale su strada segnalato allo svincolo di Santa Croce sull'Arno e segnalati materiali dispersi tra Empoli Ovest e San Mignato in direzione di Livorno. E ricordiamo che è in corso con varie modalità di adesione, uno sciopero del trasporto pubblico per tutta la giornata, possibili disagi per chi si muove in treno, autobus, tramvia e aereo, tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!